Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Litiga col fidanzato architetto fanese trovata impiccata ad un albero nel quartiere Prati a Roma pensionati costretti a vivere con un reddito troppo basso la CISL di Fano chiede al comune di ridurre la Tasi e lancia una raccolta firme L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia ricerca reperti storici per una mostra dedicata alla marineria Buonasera cari telespettatori di Occhio alla Notizia benvenuti a questa edizione del TG Silvia Gadani, un architetto fanese di 41 anni è stata trovata impiccata ad un albero in strada nella notte a Roma è accaduto intorno alle 2.20 in via Egno Quirino Visconti nel quartiere Prati e da quanto si è appreso la donna ha usato un fular per compiere il drammatico gesto a fare la tragica scoperta e a dare l'allarme al 112 un gruppo di 5 ragazzi che usciva da un bar vicino sul posto i carabinieri della stazione Prati che indagano sulla vicenda al momento non si ipotizza e non si esclude il suicidio secondo alcune testimonianze Silvia, animalista e molto attiva sui social network poco prima avrebbe avuto una lite con il fidanzato lui stesso, rintracciato e ascoltato dagli inquirenti avrebbe confermato la lite con la fidanzata ed ora cambiamo argomento parliamo delle difficoltà dei pensionati sempre più spesso costretti a vivere con un reddito minimo la CISL di Fano chiede all'amministrazione comunale di tagliare la Tasi e lancia una raccolta firme vediamo il servizio di Simona Zonghetti il comune deve scegliere se difendere il sociale o la fondazione teatro così il responsabile della CISL di Fano Giovanelli che questa mattina ha illustrato i dati sulla situazione reddituale dei pensionati da questi elementi emerge che aumentano i problemi sociali a Fano sono oltre 10.000 i pensionati un numero importante se si pensa che la popolazione totale è di circa 61.000 abitanti l'importo medio della pensione è di 1.036 euro ma in aggiunta ci sono 775 persone che vivono con l'assegno sociale per un importo medio mensile di circa 400 euro non ci scandalizziamo se poi un anziano che dovrebbe pagare 80 euro di ticket per un'analisi del sangue ha detto Giovanelli preferisce spendere quei soldi per pagare una bolletta c'è una fascia considerevole di persone anziane che non riescono a soddisfare con il loro reddito da pensione le esigenze quotidiane e ordinarie della vita per cui molti anziani con questa situazione reddituale bassa rinunciano anche alla cura tenendo conto poi che molti anziani hanno preso in carico magari o il nipote disoccupato sostengono il proprio figlio per cui fanno un po' anche da sostegno alla situazione di crisi la CISL ha incontrato l'amministrazione comunale di Fano per chiedere di ridurre la tasia agli anziani e pare che la giunta sia favorevole alla proposta dopo le festività pasquali inoltre partirà una raccolta firme a livello nazionale con l'obiettivo di presentare un progetto di legge e di iniziativa popolare che possa spingere il governo ad adottare una riforma del sistema fiscale più equo e giusto tra queste richieste l'introduzione di un bonus di 1000 euro un nuovo assegno familiare fermare l'aumento delle imposte e delle tasse locali e la lotta all'evasione fiscale noi da dopo Pasqua partiremo con la raccolta delle firme in tutti i comuni e poi mano a mano che organizziamo raccolte di firme nei vari mercati li comunichiamo cominceremo da Fano Fossombruno e Pergola e la Valle Metabra Val Cesano le pensioni di vecchiaia non vengono adeguate da ben 10 anni ha fatto notare il responsabile CISL specificando che gli anziani non hanno ricevuto nemmeno gli 80 euro distribuiti dal governo Renzi quello che noi chiediamo è che comunque siccome di salvaguardare i servizi sociali quindi di fare in modo che si dia un aiuto almeno a quelli che sono in una situazione di bisogno salvaguardando i servizi minimi per poter andare avanti Giuseppina De Tommaso del patronato CISL ha rilevato invece un aumento delle richieste di invalidità civile le persone che hanno ottenuto riconoscimento sono oltre 3.500 per un importo medio mensile di circa 435 euro frequentemente per la famiglia quindi per affrontare tutta l'assistenza e le spese sanitarie presentiamo diverse pratiche di indenità di accompagnamento di invalidità civile abbiamo riscontrato in questi ultimi periodi un aumento di oltre il 15 il 20% la famiglia si ritrova spesso ad affrontare spese l'importo della pensione ormai sappiamo che da tanti anni non ci sono rivalutazioni quindi ci troviamo di fronte a dei nuovi poveri a delle nuove povertà la richiesta che viene fatta spesso però non viene accettata dalle commissioni dell'azienda sanitaria e la maggioranza fanese ha fatto mancare il numero legale in consiglio comunale facendo sospendere la seduta vediamo che cosa è successo se hanno altro di meglio da fare che assolvere al proprio ruolo di consiglieri comunali per cui sono stati eletti si facciano da parte questo è il commento dell'opposizione a quanto è accaduto ieri in consiglio comunale di Fano dove la maggioranza ha fatto mancare il numero legale facendo sospendere la seduta questo dimostra la poca attenzione che questa amministrazione dà alla città non solo per questo che è accaduto ma anche per tutti gli atti i non atti che non vengono appunto in consiglio comunale quindi anche in questo caso ha perso l'occasione di dimostrare alla città la propria attenzione l'opposizione è compatta mentre si discutevano le emozioni per il rilancio del turismo cittadino la maggioranza ha evidentemente preferito dedicarsi ad altro dicono quindi che si facciano da parte e lasciano spazio a chi ha un interesse a collaborare per il bene della città i consiglieri di maggioranza hanno il dovere morale di assicurare il numero legale e regolare procedimento delle sedute anche ieri sera concludono sono andati in fumo diversi soldi pubblici per la convocazione di un consiglio comunale che non ha deliberato nemmeno quel poco che si poteva diciamo che la dimostrazione oltre a questo è anche una città come Fano è la terza città delle Marche non si può lavorare il part time e questo comporta appunto quello che non viene fatto per questa città non c'è nessuna linea programmatica e non c'è niente e torniamo a occuparci degli immigrati ieri l'ex sindaco Stefano Aguzzi aveva sollecitato l'amministrazione a trovare lavori socialmente utili per gli immigrati pronta risposta oggi dell'assessore Marina Barnesi convenzioni tramite i comuni che li ospitano e le prefetture utilizzando l'associazionismo diffuso senza rubare lavoro a nessuno facendoli fare volontariato arrivano sono ospitate al plaso o in qualsiasi altro luogo il mattino ci si alza alle 8 perché all'8 e mezza arriva il pulmino che prende queste persone li porta nel giardino pubblico che è da pulire o lungo la spiaggia che è da sistemare a mezzogiorno li riporta al plasa mangiano perché hanno finito il loro lavoro e il pomeriggio riposano questa amministrazione ha fallito nell'accoglienza secondo l'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi che ieri è intervenuto sul tema dell'immigrazione rimproverando alla giunta di non essere riuscita a impiegare il gruppo ospitato al plaza nemmeno i lavori socialmente utili alle affermazioni del consigliere ha risposto oggi Marina Barnesi l'assessore ai servizi sociali ha puntualizzato che i 31 profughi sono rimasti qui solo per tre mesi e le procedure per poter attivare questi lavori sono invece più lunghe e complesse la richiesta più specifica di attività strutturate con lavori cosiddetti socialmente utili ma a titolo volontaristico richiede comunque una sua procedura e anche un protocollo ed è la prefettura stessa che ci ha convocato più di una volta il protocollo lo possiamo stilare ha delle procedure che vogliono una chiarezza rispetto ai luoghi tempi i modi una copertura assicurativa un corso di formazione in preparazione delle attività da svolgere quindi voi come potete ben immaginare ancora non c'è un sistema diciamo rodato rispetto a questo il protocollo di intesa oggi è stato completato e visionato dalle associazioni di volontariato passerà poi in consiglio comunale e infine dovrà essere sottoposto alla prefettura noi metteremo anche delle altre attività per il tempo libero perché davvero riteniamo che le persone che arrivano molto spesso abbiano bisogno di più opportunità non solo quella del dover lavorare ma del poter lavorare ed ora occupiamoci di quella deprecabile abitudine che taluni hanno di imbrattare i monumenti della propria città con brutte scritte anche Fano non è scevra da questi episodi e con un delicato intervento concordato con la sovrintendenza i tecnici comunali l'associazione Regresso Arti ha cancellato disegni e scritte sulla parte destra dell'arco d'Augusto la porta cittadina che ha oltre 2000 anni di storia era stata imbrattata nei giorni scorsi con scritte realizzate con pennarello nero ieri sono state asportate anche le gomme indurite dalle schiume spruzzate con le bombolette spray durante il carnevale il presidente dell'associazione Regresso Arti Franco Cenerelli ha sottolineato la nocività delle stelle filanti perché se non rimosse subito rovinano i monumenti per eseguire la pulizia sono state necessarie tre ore di lavoro e l'ausilio anche di un bisturi alla darsena borghese presto verrà allestita una mostra sulla seconda guerra mondiale e l'associazione nazionale marinai d'Italia ricerca reperti storici a quasi cent'anni dall'entrata in guerra l'associazione nazionale marinai d'Italia sezione di Fano allestirà una mostra nel prossimo mese di agosto dedicata agli aspetti navali che hanno caratterizzato il periodo l'iniziativa di ingresso gratuito sarà incentrata sugli eventi che si sono svolti sul fronte italiano e in particolare sul ruolo della marina militare che ha impedito i rifornimenti agli avversari consentendo quindi al paese stesso di ricevere quelli di cui aveva bisogno nei fine settimana di agosto verranno organizzate inoltre quattro conferenze aperte alla cittadinanza con lo scopo di focalizzare il fenomeno da diversi punti di vista tra i relatori l'ammiraglio Pio Bracco che lancia un appello alla popolazione stiamo alla ricerca spasmodica di qualsiasi reperto quindi invito tutti se hanno qualcosa in qualche baule medaglie lettere cartoline qualsiasi cosa perché la prima guerra mondiale è stato il primo esempio di reazione collettiva per un evento nazionale proprio uno di questi oggetti ha fatto scaturire l'idea di questa mostra esatto un nostro associato andando a Roma al vittoriale ha visto nel sagrario delle bandiere il cofano di una bandiera data dalle donne di Fano al secondo treno armato che faceva parte del dispositivo di difesa costiera nella prima guerra mondiale l'ANMI inoltre vorrebbe consegnare un riconoscimento ai familiari di Galliano Furlani un marinaio fanese che partecipò all'impresa nota come la beffa di Buccari lui faceva parte dell'equipaggio del MAS numero 95 stiamo cercando di recuperare gli eredi perché penso che ormai il signor Galliano non faccia più parte della nostra comunità e perché abbiamo intenzione di offrire il giorno dell'inaugurazione dell'apertura della mostra una targa commemorativa per appunto testimoniare la vicinanza al di là degli anni che sono passati tra l'associazione e chi ha servito con onore il nostro paese l'occasione delle prossime festività il museo archeologico e la pinacoteca civica resteranno aperti al pubblico con ingresso gratuito in programma anche due visite guidate alla corte malatestiana istituita alla sua originaria bellezza dopo lo smontaggio dell'allestimento per spettacoli a estivi e le ricche collezioni conservate nel palazzo malatestiano apertura straordinaria anche per altri due importanti monumenti la rocca malatestiana e l'ex chiesa di San Francesco museo civico chiocciolacomune puntofano punto più punto it per avere delucidazioni il pesce azzurro sbarca anche a Senigallia e da sabato 4 aprile a due passi dalla rotonda si potranno degustare i menu a base di pesce della catena di ristorante self service nata nel 1979 e che porta in tavola il pesce dei soci della cooperativa Comar Pesca sono ora 5 i punti di ristorazione la casa madre è a Fano poi c'è Cattolica Milano Maritti Marrimini e ora Senigallia nel 2014 il gruppo ha segnato un fatturato di 6 milioni di euro e 120 persone occupate e a Monbaroccio si è tenuta l'annuale festa degli alberi e un'edizione quella del 2015 estremamente frequentata e anche di grande soddisfazione per la proloco vediamo perché l'annuale festa degli alberi dei prodotti tipici che si è svolta all'interno dello storico borgo di Monbaroccio è stato un vero successo tanto sperato dagli organizzatori quanto inaspettato una giornata di pieno sole ha fatto da cornice e ha accompagnato i tantissimi visitatori che hanno affollato la festa i quali oltre a degustare i prodotti tipici del nostro territorio hanno potuto passeggiare in una piazza allestita interamente con piante e fiori grazie ai numerosi vivaisti che hanno partecipato a questa edizione del 2015 una domenica in cui la natura è stato il vero ospite d'onore attraverso anche i convegni che si sono svolti all'interno del teatro comunale coltiviamo la biodiversità e l'importanza dell'albero nella vita quotidiana effettivamente è un gruppo di volontari particolarmente attivo e particolarmente bravo danno il meglio e danno il meglio anche con la parte più bella che è la gioventù quindi devo veramente fare un plauso questa edizione della festa quindi ha rappresentato una doppia soddisfazione per la proloco di Monbaroccio oltre al folto pubblico anche la premiazione del gruppo giovani da parte del presidente regionale dell'Uncli alla presenza dell'onorevole Marco Marchetti per essere il primo gruppo ad essere stato istituito in Italia da qui anche la nomina al presidente della proloco Damiano Bartocetti di responsabile regionale delle proloco giovani questo è un motivo di orgoglio ma ahimè anche un motivo di impegno maggiore perché dovrò girare tutte le marche e sicuramente al mio fianco vorrò nei miei giri i miei giovani i giovani di Monbaroccio che vorrò portare nel sud delle marche nel nord delle marche nelle nostre marche nel nostro bellissimo territorio marchigiano bene con quest'ultima notizia è tutto per questa edizione di Occhio alla Notizia però prima di salutarci io vi ricordo che le vostre segnalazioni per noi sono importantissime e quindi io vi invito a segnalarci al numero 338 49 68 250 tramite un messaggino un sms o un whatsapp qualsiasi cosa voi ritenete utile e importante o anche invitando una mail a redazione chiocciolaocchiolanotizia.it bene e con questo è veramente tutto grazie per essere stati in nostra compagnia se vorrete noi domani sera saremo qui alle 20.30 puntuali buona serata a tutti voi